Salve a tutti! Continuiamo oggi a parlare dei generatori di onda quadra fatti con amplificatore operazionale illustrando questo circuito che consente di effettuare una variazione del duty cycle dell'onda quadra in uscita. La modifica che viene effettuata sul circuito originale del generatore di onda quadra è in pratica l'aggiunta di questo blocco di componenti dove in pratica l'elemento principale è la presenza di questi due diodi in parallelo ma montati in verso opposto. Quindi è facile notare che quando l'uscita sarà alta questo diodo entra in funzione e questo è interdetto mentre quando l'uscita è bassa questo diodo entra in funzione e questo invece è interdetto. E cosa provoca questa interdizione alternata dei diodi? Richiamando la formula che avevamo ricavato per il calcolo del periodo possiamo notare che questo è direttamente proporzionale al valore di R ovvero la resistenza presente in questo ramo del circuito. Ma l'inserimento di questi due diodi fa sì che la resistenza vista durante la fase di carica del condensatore sia diversa dalla resistenza vista durante la fase di scarica del condensatore. Quindi come conseguenza otteniamo che il periodo alto e il periodo basso saranno diversi. Andando a calcolarli otteniamo che il periodo alto sarà direttamente proporzionale alla somma di R più Rv1 mentre il periodo basso sarà direttamente proporzionale alla somma di R più Rv2 quindi banalmente poi per ottenere il periodo totale basterà fare la somma dei due. Mentre per quanto riguarda il duty cycle possiamo vedere come questo sia diverso dal 50% e dipende dai valori assunti dalle due resistenze. Quindi facendo un esempio pratico se noi inserissimo un trimmer nel circuito quindi andiamo a variare di volta in volta le resistenze Rv1 ed Rv2 otteniamo che il valore del periodo si mantiene sempre costante perché questa somma è costante mentre quello che varia è il valore del duty cycle. Il range entro il quale è possibile far variare il duty cycle con questo circuito va dal 5% al 95%. Mentre è sconsigliato scendere al di sotto o salire al di sopra di questi due valori limite in quanto si potrebbero verificare dei problemi di commutazione dei diodi. Infatti se andiamo ad utilizzare dei diodi al silicio a seconda del tempo di recupero del part number che andremo ad utilizzare questi valori potrebbero non essere perfettamente in linea con quelli poi calcolati. I valori che ho deciso di assegnare al circuito che adesso andremo a testare per verificare che effettivamente questa variazione di duty avvenga correttamente sono riportati qui sul foglio e dovrebbero consentirmi una variazione del duty cycle da un valore minimo dell'8% a un valore massimo del 92%. Per i diodi invece andrò ad utilizzare l'1N4148 che è attualmente il diodo al silicio più prestante che ho qui in laboratorio. Infatti presenta un tempo di recupero di soli 4 nanosecondi. Molto bene, ho montato il circuito sulla breadboard e adesso andremo a fare qualche acquisizione con l'oscilloscopio, quindi vedremo qualche forma d'onda e faremo qualche misurazione. Ho connesso le sonde dell'oscilloscopio al circuito ed ecco qui le forme d'onda. Abbiamo in giallo l'uscita del nostro amplificatore operazionale, quindi vediamo l'onda quadra, mentre in blu vediamo la tensione presente sul piedino invertente dell'amplificatore operazionale, quindi la tensione ai capi della capacità. Adesso il circuito sta lavorando a una frequenza di 694 Hz con un duty perfettamente al 50%. Infatti il trimmer è in posizione centrale. Adesso vado a spostare il trimmer, ecco qui. Come si può vedere il duty varia ma la frequenza resta pressoché costante. mi porto fino al duty massimo. Ecco qui, 90% circa. Mentre andando ad abbassare, arrivo fino al minimo. Ecco qua, un duty del 9%, che sono valori molto molto simili a quelli analitici che avevamo calcolato. Inoltre, come si può vedere, la frequenza resta pressoché costante. Soltanto agli estremi del duty cycle inizia ad aumentare leggermente dovuto al problema di cui abbiamo parlato in precedenza. quindi bisogna evitare di superare il range 5% 95%. Molto bene. Quindi, come abbiamo potuto vedere, il circuito funziona correttamente e come previsto dalla teoria. Inoltre, ha anche un bel comportamento lineare. Infatti, mi sono accorto che la variazione data al trimmer è abbastanza proporzionale con la variazione di duty cycle che misuravo sull'oscilloscopio. Molto bene. Per questo video, quindi, è tutto. Alla prossima! Alla prossima